Ciao a tutti ragazzi, io sono Eagle, benvenuti sul mio canale Oggi siamo qui, su State Talk Sviti tutti Mori destrozzi, mori, mori, mori Sviti tutti Sviti tutti Sviti tutti Sviti tutti Sviti tutti Un'e dei psicosi cercano di mi ha scocciato, ma sì, sì, io sono bene No, non possiamo solo stare qui nella scena, è sicuro Stato di ranger Stato di ranger Stato di ranger Cosa c'è, ragazzi? Siamo venuti due settimane e cosa? Tutti si prende un cannibalismo? Sviti tutti Allora Allora, questo gioco non ci gioco penso da quando è uscito, quindi Mi devo un attimo ricordare Allora, ok, qua c'è l'inventario Qui ci sono le mie statistiche Poi vedete Poi vedete, probabilmente si è compiuta nelle varie abilità Ogni personaggio che incontri ha una serie di abilità diverse a sua disposizione Per saperne di più Sono abilità, ad esempio come affinarla e in che modo di vedere Selezionala con il mouse Per esempio acume Ok Questo gioco è fantastico Perché c'è praticamente il permadeath Cioè che se mi muore questo personaggio Io non potrò mai più usare questo personaggio Inizierò Cioè inizierò Continuerò la mia avventura con un altro superstite che ho aiutato Per esempio adesso se muoio questo sto con Ed Allora Vabbè Ok Andiamo Ed Allora Allora devo andare Allora noi siamo qui Devo andare alla stazione dei ranger Lo posso vedere? Non mi ricordo No Dentro i corpi dei zompi Dei zompi Ammazza sto strozzo Oh 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 Certo, pure io sto con uno snack, cioè con uno snack, con un ramo, con un ramo di bastone. Ok, spero che comunque... Aspettate, eh. Andiamo qua. Buongiorno! Ok, vediamo cosa possiamo fare. Bene? Lo apprezzato. C'è una torre di acqua che ha una buona vista delle campgroundi. Potrebbe essere valore per ascoltare l'interno e aver guardato prima. Abbiamo alcune strade nella città. Prendete quello che bisogna e restate tranquilli qua. Ammazza la gente qua, ok. Mentre selezionate il tuo ritratto, vuoi usare il mouse per gestire... Lo so. Questo c'è una gamba da tavola, padella, tubo di piombo questo. Come potete vedere, ogni personaggio ha le sue abilità, che naturalmente si possono affinare. Abbiamo pieni di provviste, come possiamo vedere. Oh, questo che è? Il supporto per gli assi. No, ci ce ne freghiamo del supporto per gli assi. Alla scuola. Alla scuola. Ah, me lo possono pure accompagnare. Però ho poca influenza su di loro. Allora, usciamo. Cosa è una buona parola? Aspetta, ci vediamo. Andiamo, vediamo. Andiamo sulla torre idrica qua. Credo che potrei avere una vista decente da qui. Palla, è stato sicuramente... Attaccato. Allora. Accampamento, accampamento. Accampamento. Bagno pubblico. Baita. 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 Accampamento. Zombie. Ok, ha trovato tutto? No. Mezzo industriale, veicolo. Ci siamo. Scusiamo. Significa che abbiamo finito? Sì. Qua. Me lo penso. Fatemi dare un'ultima occhiata, che io sono molto pignolo su queste cose. Ok, a posto. Ok, a posto. Oh. Madre. Ok. Selezioniamo un po' la zona, andiamo a vedere sti accampamenti. Vieni. Boom. Bitch. Ok. Qui c'è qualcosa? Un zainetto, niente. Non è rimasto nulla. Vuoi sapere cosa mi preoccupa? Sì, stanno mettendo un'infirmia in là. Come... Perché stanno portando queste persone a un ospitalo o qualcosa? Non lo so, ragazzi. Beh. La situazione si è abbastanza utile. Tu pensi? Ma cosa sta prossima? Un piacere di guadalto? Non è una idea buona, in realtà. Dobbiamo fare cose più sicuri qui a qui. cazzo mamma mia grandad allora zaino grande è un revolver ok ottimo come ho preso un bello zaino grande adesso posso andare in cerca di altra robina ah ci sta pure qua dietro ok questo è stato già scoperto abbiamo preso tutto qui madonna devi riprendere fiata hai corso un pochetto allora qui c'era il veicolo ah certo perché ci sono anche i veicoli ragazzi cioè è veramente un giochino cioè è uscito parecchi anni fa ma da da veramente in culo a molti titoli di adesso allora qua c'è il veicolo però ecco che c'è il veicolo Levati! I head! Bene, ho rotto il mio bastone. Io spero solo che... ...dude help now please! Oh shit! So much for doing it quietly. Oh shit! So much for doing it quietly. Oh shit! Oh shit! No! Cazzo. Fatto casino sono arrivati. Ammazza tutti Ammazza Ho preso tutto qua? Sì Ammazza però Come sta messo Ed? Non tanto bene ma manco tanto male Oh però se vai da solo Di Yamagiko Ok ho trovato sto macete ragazzi Niente male proprio Veramente niente male Ok Adesso possiamo andare Ah devo ritorna sulla Vedi non ho scoperto alcune cose E quindi mi fa torna sulla torre idrica No sta Ho sentito ecco Bravo bravo Qui non è rimasto nulla Qui sì invece Ok Non famo casino Meglio che aspettiamo un po' di più Zaino piccolo Che me serve? Allora il fucile me serve Fuoco d'artificio I rumori improvvisi sono perfetti Per attirare l'attenzione Ok lì ci saranno nuovi sopravvissuti Ragazzi io penso di concludere qui l'episodio Fatemi sapere se Questo video vi è piaciuto Con un bel pollicione in su E iscrivetevi al mio canale Ciao belli Ciao belli Ciao belli